Fermento nel Vallo di Diano per le vaccinazioni. Mentre sono in atto le operazioni di immunizzazione per gli over 80, anche nel Vallo di Diano ci si sta attivando per velocizzare ulteriormente le operazioni. I vaccini AstraZeneca, giunti in provincia di Salerno nelle ultime ore, molto probabilmente per le caratteristiche stesse del vaccino consigliato su persone di età inferiori ai 55 e 65 anni, saranno riservate al personale scolastico e forze dell'ordine, le cui vaccinazioni partiranno a breve, dato che si sta provvedendo ad inserire le due categorie sulla piattaforma per la prenotazione. Intanto il Vallo di Diano si sta attivando per l'individuazione di altri centri vaccinali. Per ciò che riguarda le dosi di vaccino, l'ospedale di Polla resta il centro di riferimento e continuerà ad essere sede di consegna solo del vaccino Pfizer-BioNTech, mentre per l'approvvigionamento delle fiale di vaccino Oxford-AstraZeneca sarà cura dei responsabili sanitari valdianesi ritirarlo direttamente presso il centro di smistamento di eboli in base alle necessità. Intanto le attività di vaccinazione vengono incrementate nel Vallo di Diano con il potenziamento del personale. Dall'ospedale di Polla infatti fanno sapere che è stata assunta una nuova dottoressa che dovrà occuparsi insieme alla responsabile dottoressa Angela Morra della somministrazione dei vaccini per velocizzare le operazioni al curto. Anche il comitato dei sindaci dell'ASL di Salerno presieduto da Francesco Cavallone si sta attivando per individuare altre postazioni nell'area centro-sud del Vallo di Diano per la somministrazione dei vaccini. Al momento i luoghi più accreditati sarebbero l'ex scuola elementare di località Fonte di Trinità di Sala Consilina, al momento già centro per l'effettuazione dei tamponi e un'altra ipotesi potrebbe essere la clinica Fischietti di Padula Scalo. Dovrebbero essere queste le sedi più accreditate anche se in realtà si è alla ricerca di sedi più durature, ossia dove le attività di vaccinazione possono essere realizzate per lungo periodo senza poi magari incorrere nel rischio di dover spostare le operazioni. Pare infatti che la campagna di vaccinazione prima di raggiungere la totale immunità potrebbe dover proseguire almeno fino alla fine del 2022. Ciò quindi rende necessario individuare postazioni che possano ospitare i centri per lungo periodo e in continuità. Di sicuro, fa sapere il Presidente del Comitato dei Sindaci dell'ASL Cavallone, cercheremo luoghi in grado di venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, evitando di doverli costringere a lunghe percorrenze per raggiungere il centro ed effettuare la vaccinazione e cercando anche di individuare luoghi idonei a ridurre i tempi di attesa.